Ciao a tutti dall'angolo, dalla Quina del Lac, siamo qua per ricordarvi le proposte di dicembre, ricordandovi e facendovi tanti auguri per le prossime festività e partiamo a ricordarvi che tutti i giovedì faremo sempre lo spiedo, tutti i giorni abbiamo il menù turistico da 12 euro con le tre scelte tra primi e secondi, la domenica faremo sempre il pranzo famiglia che comprende un antipasto impiattato di tre assaggi, un bis di primi, un bis di secondi, il dolce, il quartino di vino a 15 euro e adesso cominciamo con le nostre serate a tema, serate a tema che cominciano con lunedì 2 che abbiamo la serata della selvaggina in cui avremo del salame di cinghiale, delle polpettine di cervo, dei casoncelli di cinghiale e olive e del capriolo in salmì, il tutto a 27 euro col bere. Continuiamo con lunedì 9 che avremo la serata fiorentina in cui partiremo con un piccolo tagliere di lardo per proseguire con una fiorentina del peso di circa 2 kg, il tutto a 25 euro. Lunedì 16 avremo la serata della paella in cui faremo la paella, il bere, il tutto a 25 euro anche quello. La domenica 8 faremo un menù famiglia un po' più sostanzioso essendo che è la festa della Madonna e costerà 22 euro. Buone feste a tutti e a presto! Che bella cosa, che è una giornata sole, è l'aria serenata, è l'aria serenata, è l'aria fresca, è pareggia la festa. Che bella cosa, la billionna del sole, è l'aria serenata, è l'aria serenata, è l'aria serenata, è l'aria serenata, è l'aria serenata. Grazie a tutti. E da questo bellissimo angolo di paradiso vi auguro buone feste, buon Natale e buon inizio anno. E da questo incantevole angolo di paradiso vi saluto e vi faccio i miei migliori... Madonna, le... aspetta... Mi faccio i miei migliori di buone feste. E da questo incantevole angolo di paradiso faccio a tutti i miei... I più sentiti auguri buone feste. Va bene, dai, aspetta. E da questo angolo di paradiso faccio a tutti il mio... Niente, Andrea. Mi si ingrippa la lingua. E da questo incantevole angolo di paradiso faccio a tutti i miei migliori auguri per le buone feste. Ciao a tutti. No, no, va bene. Va bene. No, eh. E da questo incantevole angolo di paradiso faccio a tutti, auguro... Auguro a tutti... I... aspetta. Auguro a tutti... Cos'è che posso dire, Andrea? Mi si ingrippa, mi si ingrippa. Non riesco a... Sentiti auguri di buone feste. I più sentiti... Sentiti auguri di buone feste. E da questo angolo di paradiso faccio a tutti i più... Uuuuuh. Auguro a tutti buone feste. E da questo angolo di paradiso auguro a tutti buone feste. Niente. E da questo angolo di paradiso auguro a tutti buone feste. E da questo la teniamo chiusa. Poi fateci un sede. Grazie. 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 Grazie.